Che noi, la mia famiglia, siamo stati, chiamiamoci fortunati, perché io sono tornata a casa, mio padre è tornato dalla Germania, venire è tornato dalla Germania, Davide era in montagna, anche lui è uno dei capi che poi ha fatto il vicequestore, anche qui. Quindi praticamente c'eravamo ancora tutti nove dopo la guerra con i nostri genitori. E dopo abbiamo sempre lavorato per la pace, per la libertà, per l'uguaglianza e lavoriamo ancora. Ti voglio dire che 60 anni fa, pensavamo però, che per voi, i nostri nipoti, le cose fossero un po' più, diciamo, un po' meglio, un po' più buone, insomma, un po' più tranquille, non tanto un po' più tranquille, perché anche voi ancora non siete tranquilli. Ecco, perché abbiamo fatto tutto per i nostri figli e per i nostri nipoti un giorno che avessero tutto quello di umano e non solo i nostri figli, ma tutto il mondo che fosse più umano, tutto il mondo, senza guerre, senza più disagi, senza più cose brutte, perché ancora abbiamo delle cose brutte. No, tanti dicono abbiamo lottato per niente. No, abbiamo lottato perché noi abbiamo avuto del benessere, dopo, perché la nostra lotta ha servito, perché noi eravamo proprio delle persone sacrificate nella vita e abbiamo avuto tanto, però volevamo che anche adesso ci fosse tanto per gli altri, perché noi veramente da quello che eravamo prima abbiamo avuto tanto, dopo la guerra. Abbiamo lavorato, abbiamo lottato, anche dopo abbiamo costruito, abbiamo cercato perché io mi lavoravo e no, però abbiamo anche avuto dei risultati.